Sì, c'è Nicola da Perugia, a tutti voi il nostro piccogliato di Torino, grazie. Secondo abito, Roberto Borges, ci incendiamo, grazie. Numero 9, il Vifredo Pionna. Numero 12, scendiamo la scuola. Numero 9, il Vifredo Pionna. Numero 9, il Vifredo Pionna. Numero 9, il Vifredo Pionna. Numero 10, il Vifredo Pionna. Numero 9, il Vifredo Pionna. Grazie a tutti. 25, 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 25 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alberto Polo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.